Questo programma è offerto da Ninivirta.it La scelta sicura per arrivare a destinazione sempre Ekeo, investimenti immobiliari Visita il nostro sito www.ekeo.it Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy Buonasera a tutti i nostri telespettatori E benvenuti a questa nuova puntata di Femme Revolutionaire Il programma più femminista d'Italia Che nasce dal mio progetto omonimo di attivismo e di abbigliamento femminile Perché è dedicato alle donne, ma in particolare anche alla cultura e alla divulgazione Questa sera però, prima di continuare, vorrei leggere una breve poesia che recita La cattiveria degli sciocchi Di quelli che non hanno ancora capito che non vivremo in eterno Con questa poesia di Aldo Amerini vorrei esprimere la mia, la nostra vicinanza A tutti coloro che sono stati colpiti dall'episodio di guerra in territorio ucraino Dopo questo momento di ossequio Vorrei però continuare con Femme Revolutionaire Con la sua divulgazione positiva e dunque portare bellezza nelle vostre case Come chi ci segue da tempo sa, in ogni puntata trattiamo un tema diverso E sviluppiamo un viaggio nel tempo, dal passato al presente Raccontando due storie sempre diverse Quella di una donna rivoluzionare del passato Che ha segnato la storia dei suoi tempi E quella di una donna rivoluzionare del presente Che sta emergendo nei nostri giorni Che sta scrivendo la storia della propria vita oggi Partiamo allora con le presentazioni in studio Alla mia destra abbiamo Elia Palesa Benvenuto Elia In arte, Dan Poet Nome con cui è molto famoso anche su Instagram Dove vanta un pubblico affiatato di ben 194.000 followers Elia infatti è uno scrittore e un poeta moderno Ha scritto due libri che si intitolano Le voci del silenzio nel 2020 E il mare dentro ai tuoi occhi uscito nel 2021 Io li ho entrambi, bellissimi Con Elia racconteremo la storia della poetessa assolutamente rivoluzionaria Del novecento Alda Merini Ma il nostro viaggio nel tempo si sposterà al presente Infatti alla mia sinistra abbiamo India Solari Benvenuta India Grazie, buonasera India è giovanissima, ha 20 anni Ed è scrittrice, writing coach Ossia consulente di scrittura Consulente editoriale E anche correttrice di bozze India ha scritto ben tre libri Nonostante la sua giovanità Ciò che l'amore non dice Nel 2019 Chiudi gli occhi Nel 2020 E il tempo di una sigaretta Uscito proprio quest'anno India ha trasformato la sua passione Per la scrittura Nel suo lavoro E ce lo racconterà più tardi Ecco, caro dem poet Iniziamo con te il nostro viaggio nel tempo Raccontando la storia di Alda Merini Torniamo al 1931 a Milano Dove nacque questa fantastica poetessa Che aveva un padre comunque affettuoso Che a cinque anni le insegnò le parole Il significato delle parole È da una madre austera Che per lei non voleva un'istruzione Ma un futuro Da moglie e madre Ecco, Elia Quando Alda Merini iniziò a dedicarsi alla poesia? Innanzitutto buonasera a tutti Possiamo dire che Si dedicò alla poesia fin da piccola Quindi da adolescente Il primo, possiamo dire, approccio all'arte L'ebbe all'età di 15 anni Dopodiché però un anno dopo Quindi a 16 anni Ci fu una spiacevole, possiamo dire, disavventura Ebbe questo primo approccio Con quelle che sono le ombre della sua vita Come lei stessa le definì Appunto quindi a 16 anni Venne internata, possiamo dire Anche così Anche se non è proprio il termine adatto Insomma Ebbe questo primo approccio Con la clinica psichiatrica di Villa Turro Spostandoci quindi un po' più avanti Nella sua età Quando crebbe Ai 19 anni Spinta anche un po' Da quello che è il suo mentore Pubblico Nell'antologia della poesia italiana Dell'epoca E la poesia Il Gobbo E la luce L'antologia comunque sia dell'epoca Trattava Quindi si basava sul periodo del 1909 Fino al 1949 Considerando che appunto Lei era così giovane Era un buon traguardo per la sua età Cosa molto positiva insomma Ecco Elia Abbiamo appunto raccontato di come Il manicomio fu purtroppo per lei Una costante della sua vita Perché soffriva di disturbo bipolare Quali tematiche allora affrontò Nella sua poetica Alda Merini? Affrontò varie tematiche Qui apriamo insomma una parentesi Che alla fine è abbastanza immensa No? E come giustamente hai detto te Insomma ci sono tematiche Influenzate anche per il fatto che Entrava insomma e usciva Dalle cliniche psichiatriche Quindi questo ha influenzato Veramente tanto la sua poesia Se vogliamo cercare di essere Più oggettivi possibili Per appunto rispondere bene Alla domanda Affrontò tematiche Quali la solitudine Quali l'amore Le difficoltà insomma Che può affrontare una donna In quegli anni Ma soprattutto anche Con insomma le difficoltà Che aveva lei Quindi in questa poesia C'è un'ancora di salvezza Possiamo dire Da parte di Alda Merini Un po' un grido Che lei lanciava Nel foglio bianco E appunto Questo grido insomma Veniva ascoltato Da quella che è la poesia Ecco Quindi aveva veramente Un'ancora di salvezza Nelle righe Insomma in quello che scriveva Inoltre Alda Merini Poetessa anticonformista Rivoluzionaria Fu la prima A parlare Nelle sue poesie Della donna Come di un essere Magnifico Potente e fragile Capace di ricostruirsi Proprio per questo Vorrei leggere Giusto due versi Di una sua poesia Che si intitola Una donna E recita Sei scura come la menzogna E ti crederanno bugiarda Verrai arsa Sul rogo di impazienza Ma tu non brucerai mai Perché sei bella Ecco Elia Come parlò Alda Merini Delle donne In alcune delle sue poesie In alcune delle sue poesie Alda Merini Parlo Possiamo dire Parlò più che altro A se stessa Quindi Lei non scriveva In funzione di Cerco di aiutare le persone A me piace pensare Lei nelle poesie Scriveva Possiamo dire Dei soliloqui Quindi Dei discorsi Che faceva alla fine Con se stessa Per questo fattore Appunto Poi Aiutava Tutti quei lettori Chiaramente In fattispecie donne Perché alla fine Lei era una donna E chi più di lei Poteva aiutare Insomma Le donne Quindi Si può dire Appunto Che Questa era Una delle tante Metodologie Che Saltavano fuori Nella sua poetica E Raccontaci Quali fuori I riconoscimenti Che Alda Merina Ottenne O riconoscimenti E premi Riconoscimenti Ci sono stati Tanti Insomma Riconoscimenti Che Lei ottenne Citiamo I più importanti Insomma C'è stata Una laurea Magistrale Ad honorem Per teorie Della comunicazione E dei linguaggi Poi Ci fu anche Quella che è la candidatura Alle premie Nobel Nobel Per la letteratura Però Ahimè Non fu mai Insomma Non riuscì mai Alla fine A vincere Questo premio Nobel Ecco A me piace pensare Che però Alla fine Per Gli artisti Per i poeti È Cosa vana Riuscire Ad ottenere Insomma Dei riconoscimenti Perché in primis Noi Mi permetto Di dire Anche in qualità Di artista Ma anche con gli ospiti Che ci sono qua L'importante È riconoscersi Di fronte allo specchio No Quindi non avere Dei problemi O comunque sia Dei rimpianti Nei propri confronti E mi piace anche Pensare che ciò Accadde anche Ad Aldalmerini Ecco Ecco Ora arriviamo A te E alla tua Poesia Recentemente Uscita la tua raccolta Il mare dentro Ai tuoi occhi Quali Tematiche Affronti Nelle tue Poesie E ci leggeresti Qualcosa Questa sera Molto volentieri Io Affronto Varie tematiche Insomma Una cosa Che faccio Molto È Guardare il mondo Con la mia Sensibilità Quello che alla fine Fa un artista È una cosa Una cosa molto Molto Importante Ecco Qui poi Mi rifaccio Con una frase Di Aldalmerini Ovvero che La quale Disse La sensibilità Non è donna La sensibilità È umana Quando però La trovi in un uomo Diventa poesia Quello che nel mio piccolo Sto cercando Di fare io Un'altra cosa Molto molto Importante È che cerco di Con parole Semplicissime Di esprimere Quelli che sono I Insomma I temi I sentimenti Vasti Della natura Umana E poi Molto volentieri Leggerò qualcosa Appunto Tratto Dalla Dalla mia Ultima Raccolta Allora Questa è una poesia Che ho dedicato Ad una persona Per me Importante Ed è una poesia Che si intitola Amo di te Le tue fragilità Amo quando posi Il tuo sonno Sul mio Quando solo con me mostri La bimba in difesa Che sei Che in realtà Siamo tutti noi D'innanzi l'amore E che pronti Sempre nascondiamo Poiché dell'altro I buio Nulla possiamo sapere Se non sentire Ghigliottina sul cuore Quando esso È già in discesa E la sera ormai giunta Amare può orgere All'altro La punta di un coltello Sul proprio petto Nell'estenuante attesa Ad essere forse Trafitti Tu non temere di me Nessuna mia lama Che io amo segretamente Di te Le tue fragilità La lacrima in folle Caduta sul tuo viso Quando pensi D'essere nulla Quando la tua mente Crea castelli Inespugnabili di sabbia Ed io Mare paziente Accanto a questa tua fragilità Porto estate Nell'onda delle mie labbra Nella tua fronte Sulle tue guance Madide Di sconforto Porgo nel tuo petto La certezza Di non essere sola Contro il mondo Contro te stessa E così Prendo via con me Nella marea Le tue parù Le tue paure A lungo temute Amo quando Con me deponi Il ghiaccio apparente Indossato fuori Nel crudo mondo Quando distendi Le tue fragilità Accanto alle mie Sapendo di trovarvi dentro Quel sapore di dimora Ma illusorio Che il soldato Al fronte Tiene ben stretto Insieme alla speranza Di tornare a casa Che questa vita È una guerra Senza sosta Ma puoi decidere Con chi affrontarla Stringendo Nella notte incombente Un pugno Di poche stelle Amo quando Ti possiedo Quando ci possediamo Quando ci sfioriamo Alle anime Attraverso i corpi E facciamo di noi Una poesia Inenarrabile Un mare in cui Navighiamo Fino ai confini Delle stelle Facendo sorridere Quel qualcosa Che gli uomini Chiamano Dio Poiché Lui vede Che in quell'attimo Siamo due cuori eterni Sovra unicielo Amo quando Dopo giacciamo Nel buio della stanza Con il tuo viso Rilassato Quieto sul mio petto E deponi il tumulto Raccolto nel giorno La sofferenza maturata Nella vita Nell'unica certezza Che è il tuo cuore L'indomani Non si sentirà trafitto Non si sveglierà Solo dinnanzi Questa guerra Chiamata vita Grazie Dem Poet Sicuramente anche Tutte le tue follower Su Instagram Saranno ben contenti Di ascoltarti Io ti ringrazio Per averci guidato Nella prima parte Del nostro viaggio Raccontando la storia Di Alda Merini E ti ringrazio Soprattutto per averci Fatto emozionare Qui in studio Con la tua magica Poesia Noi ci vediamo Tra pochissimo Dopo la pubblicità Restate con noi Perché racconteremo Una nuova storia Quella di India A tra poco Da oltre 35 anni Ci prendiamo cura Con passione Delle vostre merci In tutta Europa Nini Virta Transport SPA La professionalità La velocità E la precisione Nelle spedizioni Hanno fatto da sempre Parte del nostro DNA aziendale Trasportiamo via terra Mare e aereo Arrivando sempre puntuali A destinazione Siamo l'unica azienda In Italia A utilizzare camion 100% elettrici Perché noi Al nostro paese Vogliamo bene Nini Virta Un servizio chiave in mano Logistica Distribuzione E operazioni doganali In sede Magazzino gestito Con radiofrequenza RFID Per non perdere mai traccia Delle vostre spedizioni Ninivirta.it La scelta sicura Per arrivare a destinazione Sempre Possiedi un immobile Di grandi metratura Milano? E sei intenzionato A venderlo? Non perdere tempo E l'opportunità Di ricevere una proposta Economica Entro 72 ore Contatta Ekeo Luxury Real Estate Al sito www.ekeo.it Ekeo Professionisti Al tuo servizio Con Triform Bench Scoprirai Il nuovo concetto Di allenamento Home Fitness La panca funzionale Dà il design Unico e inimitabile Con inclusi Tutti gli accessori Per il tuo allenamento Functional Scarica l'app E divertiti A scoprire Centinaia di esercizi Grazie ai video training Dedicati Tieni sotto controllo I tuoi allenamenti Con la fascia cardiaca Inclusa Facile da spostare E riporre Senza spreco di spazio Triform Bench L'eleganza E la funzionalità Made in Italy Per il tuo allenamento Home Fitness www.triformbench.com Ben ritrovati Cari telespettatori A questa nuova puntata Di FAM Revolutionaire A inizio serata Abbiamo dedicato Un momento di ossequio E vicinanza Al popolo ucraino Dopodiché Abbiamo proseguito Con la nostra Divulgazione piacevole E positiva Di FAM Revolutionaire In particolare Abbiamo parlato Di poesia Raccontando la storia Della leggendaria Rivoluzionaria Alda Merini Insieme a Tempoet E ora Il viaggio nel tempo Arriva fino ai nostri giorni E presenta la storia Della giovanissima India Solari Che qui Alla mia sinistra Grazie Buonasera India rappresenta La nostra FAM Revolutionaire Del presente Partiamo subito Con le domande Quando e come Hai iniziato A dedicarti Alla scrittura Sì Io mi sono avvicinata Al mondo della scrittura All'incirca L'età di 15 anni Inizialmente Scrivevo Pensieri Riflessioni E emozioni Un po' ovunque Quindi Sul diario di scuola Su Fogli Sparsi Quella Su pezzi di carta Insomma Un po' ovunque Era una valvola di sfogo Comunque Un bisogno Di esprimersi Di esprimere Sia le cose belle Quindi felicità E anche dolore Quindi le cose negative Perché Comunque La scrittura In quel periodo È stata Molto d'aiuto Per affrontare Un periodo Comunque difficile Della mia adolescenza E Da Bisogno Comunque Di Di espressione È diventata Una vera e propria Passione E Inizialmente Infatti Dopo aver cominciato Un po' a scrivere Qua e là Ho iniziato a prendere La scrittura Un po' più sul serio Quindi a vederla Sotto un altro Punto di vista E Quindi ho cominciato Un percorso Durato All'incirca Un anno Che a me piace Definire Percorso Periodo di palestra Perché appunto Facevo esercizi Costanti Scrivevo Anche Soprattutto di notte Oltre che A qualche Momento Libero Durante la giornata Scrivevo di notte Perché era diventata Una Una passione Un po' segreta Perché nessuno Sapeva Di questa cosa Nella mia famiglia Nelle mie amicizie E quindi Scrivevo di notte E dopo qualche mese Ho deciso Di aprire Un profilo Su una piattaforma Di scrittura Chiamata Wattpad E Da lì poi Io ho iniziato A ricevere Molti riscontri positivi E mi hanno spinto A continuare Per la mia strada Ecco Infatti Tu hai scritto Ben tre libri Come dicevamo A inizio puntata Di che cosa Parlano questi libri E appunto Nello specifico A quali risultati Ti hanno portato A queste pubblicazioni Sì Allora Abbiamo Ciò che l'amore non dice Che è la mia prima pubblicazione E Sono molto fiera Di questo libro Uscito nel 2019 Quindi pubblicato All'età di 18 anni Avevo Poco più di 18 anni E Questo libro È una raccolta Di storie brevi D'amore E Appunto Ciò che l'amore non dice Quindi Parla dei lati Più oscuri Più bui dell'amore Quelle parti Che facciamo fatica Ad esprimere E Tratta tematiche Molto importanti Molto profonde Quali Le malattie mentali Il suicidio Ma anche La rinascita Perché Il messaggio principale Che ho cercato Di infondere Al lettore È quello di È quello di Capire Che i momenti Bui esistono Sono giusti Ma è anche giusto Risalire E ripartire Poi abbiamo Chiudi gli occhi Che è la mia Raccolta di poesia Illustrata Dall'illustratrice Alessia Panarello E Mi piace definirla Una scalinata Verso l'alto Quindi che In cui si parte Da un momento Di oscurità Infatti la prima parte Di questa raccolta Si chiama oscurità Fino ad arrivare Alla luce Difatti la seconda parte È chiamata luce E quindi anche qui La tematica principale È la rinascita Quindi partire Da un momento difficile E risalire Verso la luce La mia ultima pubblicazione Uscita a gennaio Del 2022 È Il tempo Di una sigaretta È un romanzo Di formazione Con tratti Molto introspettivi È la storia Di due Giovani ragazzi Giovanni Adele Che si incontrano Per caso A un concerto E decidono Di intraprendere Questo viaggio On the road Lungo La costiera italiana Da coste italiane E È un viaggio Non solo Fisico Perché comunque Fanno un viaggio Lungo Delle tratte Delle città Molto importanti Italiani Quindi luoghi caratteristici Ma è anche Un viaggio Dentro loro stessi Alla ricerca Di Di un punto A cui arrivare Di un obiettivo E Alla ricerca Della consapevolezza E Dalla redenzione Di un dolore Che entrambi provano Che li accomuna Ma che provano Per ragioni diverse Legate comunque A loro passato A un passato difficile Che Fanno fatica A portare avanti La pubblicazione Che Mi ha dato più risultati Di cui sono molto felice È L'ultima La prima pubblicazione Quindi Ciò che l'amore non dice Perché Ad oggi Conta Circa 2000 lettori Anche se sono In continua crescita E Contando che È stato pubblicato In Self Su Amazon Quindi Autopubblicato È un Traguardo Davvero molto importante Che mi sta rendendo Molto felice Oltretutto A pochi mesi Dall'uscita Avevo ricevuto La proposta Di tradurlo In inglese Infatti Poco dopo È uscito Anche in inglese Quindi Ha anche Un bacino Di lettori Molto più ampio Arrivando anche Quindi A paesi Molto più lontani Ecco Quindi Complimenti Sei una scrittrice Una poetessa Ma anche Una consulente Editoriale Questa professione L'hai creata Tu Con dedizione E intraprendenza Trasformando La tua passione Per la scrittura In un vero e proprio Lavoro Come è nato Questo lavoro In che cosa Consiste oggi Dunque Il lavoro In generale Dello scrittore Soprattutto Qui in Italia Diciamo Qui in Italia Abbiamo una visione Molto antica Dello scrittore Nel senso Che qui Pensiamo Che lo scrittore Sia colui Che siede alla scrivania Si mette a scrivere Realizza un'opera E vive di questo Ma in realtà Ad oggi Non è più così Perché la scrittura Oggi Oltre che Propriamente A scrivere È anche Lavoro Passione Dedizione Studio E progettazione Quindi Quello che faccio In poche parole È quello di Affiancare gli scrittori Durante tutte le fasi Di costruzione Di un romanzo Quindi durante la progettazione La stesura E la revisione Di un testo Attraverso Percorsi Mirati Di affiancamento Che vanno in base Alle esigenze Dei vari scrittori Questo lavoro Questo lavoro Diciamo L'idea di fare Questo lavoro È nata Un paio D'anni fa Perché appunto Ho cominciato Un percorso Di studio E formazione Durato all'incirca Un anno E dopo Un anno Ho deciso Di cominciare A correggere Le bozze Dei testi Delle persone Che conoscevo Di amici Parenti Familiari Gratuitamente Quindi all'inizio Ho deciso Di farlo Gratuitamente Per affinare Comunque Le mie conoscenze Le mie abilità E a metà 2021 Circa Ho aperto Il mio sito web E ho fatto Un lavoro Molto specifico Sul mio profilo Instagram Ad oggi Questo è Il mio Lavoro È la mia passione La mia dedizione Più importante Ho aiutato E sto aiutando Ancora oggi Molti Molti scrittori A realizzare Il sogno Di pubblicare Un libro E questo aiuto In questi giorni È molto più Concreto Grazie all'uscita Del mio videocorso Sulla progettazione Narrativa Che dà La possibilità Appunto Di un aiuto Concreto Sia per gli scrittori Alle prime armi Sia anche Agli scrittori Più avanzati Questo lavoro Il ruolo Che ricopro È a volte Molto difficile Perché ci vuole Molta pazienza Molto impegno E una buona dose Di responsabilità Però mi sta regalando Comunque Molte soddisfazioni E ne sono davvero Felice Molto bene Torniamo a parlare Per un attimo Di Alda Merini Vorrei chiederti Tu Che cosa ne pensi Della sua vita Sofferta E della sua poetica E secondo te Che cosa L'ha resa Fino ai nostri giorni Una donna rivoluzionaria Alda Merini Alda Merini Alda Merini Le debolezze Le debolezze Dato magari Dato magari Dato magari Dalla situazione Della società Odierna Dai canoni Della società E oppure Da un ambiente Che impedisce Proprio le donne Anche di oggi Di brillare E di aprire le ali Adesso agli scrittori Che mi contattano Anche su Instagram Per chiedermi consigli Un aiuto O anche alle scrittrici Che seguo Durante i percorsi Di affiancamento La cosa che dico Più spesso È Non smettete Mai Di crederci Perché ci saranno Comunque Sicuramente Come ho avuto io Dei periodi Di blocco Dei rifiuti Dei momenti Difficili Ma è proprio In quei momenti In cui bisogna Andare avanti E perseguire Verso l'obiettivo Desiderato Non bisogna Mai smettere Di crederci Perché Prima o poi Arriveranno Comunque Arriverà Comunque La luce Quindi Tutti gli sforzi Saranno ripagati E la cosa più importante È che Se avete Un libro Nel cassetto Un sogno Nel cassetto Di tirarlo fuori E raggiungerlo E realizzarlo Grazie Cara India E ancora Complimenti Proprio perché Sei Ti sei dimostrata Così intraprendente Come artista Come scrittrice Ma anche come professionista Questa sera Voglio fare Una consegna speciale Che è il nostro Femme Revolutionaire Direttamente A te È qui sul tavolo Io te lo consegno Di persona Come nostra Consuetudine Grazie Lo puoi anche aprire Qui Con noi Femme Revolutionaire Award di questa sera Di questa puntata Dedicata alla scrittura Va a India Solari Grazie Complimenti ancora E grazie per essere Stata qui con noi Ringrazio ancora una volta Dempoet A presto This programma è offerto da www.ekeo.ekeo.ekeo